Buongiorno a tutti, sono Francesco Iacomeli di Remax Immobili Investimenti. Oggi ci troviamo a Calderara di Reno in via dello Sport e vi propongo un appartamento al piano non primo con ascensore composto da ingresso sul soggiorno pranzo con angolo cottura, ripostiglio e terrazzo, disimpegno notte, due camere e pagno, oltre al garage. I punti forze di questo appartamento sicuramente è la posizione. Ci troviamo in zona centrale e riusciamo a raggiungere ogni tipo di servizio, dai generi alimentari, nelle scuole, uffici comunali, aree avverbe e zone sportive a piedi. Ottimo per famiglie. Un saluto da Francesco Iacomeli, nel video troverete i miei contatti. A presto!